È stata inaugurata ieri pomeriggio nel chiostro dell'ex Casa del Popolo di Via Castellani, la festa della cooperazione a Faenza. La prima giornata è stata dedicata alla figura di Monsignor Carlo Mazzotti, raccontata attraverso le testimonianze di Giuliano Bettoli, che lo conobbe personalmente e da Alberto Fuschini, autore del volume Cooperazione e Democrazia dei Cristiani. L'approfondimento è dedicato al canonico Mazzotti, promosso dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbrica, ha messo in luce il ruolo della cooperazione nella vita delle comunità parrocchiali faentine. Fare la festa della cooperazione significa fare memoria, non soltanto parlare dei problemi di oggi che non sono sempre più piacevoli, anche per le imprese cooperative, ma fare memoria significa capire le origini delle imprese cooperative, ma capire il senso della mutualità cooperativa, ciò che sta alla base, quel tipo di rapporto che sta alla base di coloro che si trovano a sviluppare è una comune attività che poi ha, che impiega le loro risorse, ma che poi è il risultato di produrre benessere e di produrre anche benessere, non soltanto individuale, ma anche della comunità. E quindi ricordare la figura di Carlo Mazzotti significa questo, un sacerdote che è morto, fra l'altro, quasi a cent'anni, con un sacco di esperienze, ma un sacerdote anche un po' agitato, un po' difficile, che però è stato al centro di anche un'esperienza, non la più felice, ma di imprese cooperative sviluppate a partire dalle esperienze delle parrocchie in campagna, anche e soprattutto per dare un senso, un valore all'attività che si sviluppava nelle campagne da parte degli agricoltori. Fu appunto una figura molto importante qui a Faenza, perché si impegnò come cooperatore in due cooperative agricole nella campagna faentina, la prima il murino cooperativo di Reda dal 1908 al 1912, la seconda, la cooperativa agricola di Reda dal 1917 al 1922, in cui lui ebbe funzioni di segretario di contabile per tutta la durata e la nascita della cooperativa, che lui contribuì a portare avanti con i suoi lavori per cercare di far progredire la comunità agricola di Reda e tutti i bisogni e necessità della popolazione. Come è stato affrontare appunto questo lavoro e quali sono stati gli aspetti che sono stati approfonditi? Sì, ormai da alcuni anni qui a Faenza, intorno alla biblioteca manfrediana, con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e della Fondazione Giovanni dalle Fabbriche, si è costituito un nutrito, direi, gruppo di lavoro che comprende giovani e meno giovani studiosi appassionati di storia locale, che hanno conosciuto Don Carlo Massotti, il canonico Massotti qui a Faenza, che ha avuto una vita centenaria, nato nel 1880 e morto nel 1980. E quindi questo gruppo ha cercato di sondare e di far conoscere i risultati di questa prima parte della ricerca in un pomeriggio del 24 ottobre scorso e dopo vari mesi di lavoro e l'intenzione sarebbe di continuare, di proseguire questa attività. Speriamo di avere l'appoggio ancora del Comune, che ha già dato una sua disponibilità, della biblioteca, della Fondazione, che ci ha garantito un minimo di fondi, di copertura economica. E la sua testimonianza sarà quella di chi ha conosciuto personalmente Monsignor Massotti. Che personaggio è stato per lei nel suo ricordo? No, no, mi ricordo bene perché io l'ho avuto prima, quando ero chierico in Duomo negli anni 40, 41, 42 ed era il confessore e il penitenziere del Duomo. Poi l'ho conosciuto dal 45 al 50, quando sono stato in seminario come studente al seminarista e l'ho avuto come insegnante di storia in secondo e terzo liceo. Quindi bisogna dire la verità, l'ho capito dopo, che era un personaggio anche che militava, perché ho letto i suoi libri, le sue ricerche fatte in modo veramente puntuale, bravissimo. Invece per noi, diciamo, gogliardi seminaristi, perché eravamo anche gogliardi, per noi il professor canonico Carlo Massotti era così un po' oggetto di un buonario umorismo, ecco, quindi adesso non sto a raccontargli degli episodi, però era così, ecco. Però li volevamo bene naturalmente, sapevamo anche del suo passato di passione politica, infatti per esempio noi altri scrivemmo sulla lavagna, viva la rerum novarum, quando entrò la rerum novarum. Ma voi sapete ragazzi, si chiamava perché aveva gli occhialini a pensne, che si chiamava cos'è la rerum novarum e durò per un'ora a parlarci della sua rerum novarum che per lui aveva voluto dire tanto e adesso poi ha capito la sua porzione politica che avevo avuto tanti anni prima.